Del sottosegretario del Mastro e dell'onorevole Donzelli, entrambi i fratelli d'Italia, non c'è molto da dire più di quello che è stato detto, se non che in uno stato serio, in uno stato di diritto, in una democrazia seria, dovrebbero dimettersi. Del Mastro da sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri e Donzelli da vicepresidente del COPA Siril, la Commissione di Controllo sui servizi e da capogruppo in Parlamento del più importante partito italiano, Fratelli d'Italia. Lo dico perché sapete che la divulgazione di conversazioni tra cospito in carcere 41 bis con mafiosi, camorristi, è stata divulgata pur essendo non divulgabile, queste conversazioni non erano divulgabili, sono state divulgate in Parlamento a uso di battaglia politica creando naturalmente un putiferio. Non lo dico io che queste conversazioni tra cospito e mafiosi sulla sciopero della fame, sulla battaglia contro il 41 bis non fossero divulgabili. Lo ha detto il Dipartimento delle Carceri, il DAP, che oggi proprio con un'anticipazione della stampa ha fatto sapere come sono andate le cose. Il sottosegretario Del Mastro fa richiesta di queste intercettazioni, captazioni, conversazioni orecchiate e registrate dagli agenti del GOM, cioè gli agenti di polizia penitenziaria che stanno nelle carceri al 41 bis a sorvegliare quello che succede tra i detenuti dal 41 bis, Del Mastro chiede queste conversazioni, il DAP le mande, in quanto il sottosegretario alla giustizia ha diritto a richiederle, ma precisa che i dati non sono divulgabili e non sono cedibili a terzi, pur non essendo segretati. Invece, come abbiamo visto, vengono spiattellati pari pari a Donzelli. Donzelli li utilizza come una clava politica per trasformare una questione serissima come quella del 41 bis, del carcere duro e di cospito, in una polemica politica. Non solo, per di più, accusare i parlamentari dell'opposizione di aver provato a fare accordi con la mafia, di essere in combutta con la mafia e con cospito per superare l'articolo 41 bis. Se lo dicesse un comune cittadino ad un partito o all'opposizione, subirebbe una gravissima condanna per defamazione. Viceversa, siccome lo dice un parlamentare coperto dall'immunità, e quindi dall'impunità di fatto per le proprie parole, non succederà niente. Sarebbe interessante sapere se l'onorevole Donzelli, che difende a spada tratta il proprio operato, sarebbe disposto a rinunciare allo scudo parlamentare, alla sua immunità e a difendersi da una querela per diffamazione. Ma sono tutte domande che non possiamo fare, perché abbiamo invitato sia Donzelli sia Del Mastro anche stasera a Piazza Pulita, e naturalmente ci hanno risposto come sempre di no. Un'ultima domanda la vorrei fare poi al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Nordio, nella sua carriera di magistrato sul 41 bis, cioè il carcere duro, ha detto e scritto queste cose, fra le altre. Il nostro ordinamento ha introdotto quella figura di isolamento mortuario, che è il 41 bis, e che per certi aspetti è più incivile anche di questa mutazione farmacologica, stava parlando della castrazione chimica. Questo per dire che il nostro sistema non brilla di civiltà. Questo l'ha detto nel marzo 2019. Ancora, pochi mesi dopo, dice, dall'invasività delle intercettazioni all'ergassolo ostativo, proprio ieri dichiarato incostituzionale, fino alla reclusione dell'articolo 41 bis, che grida vendetta al senso di umanità e alla funzione reeducativa della pena. Carlo Nordio, ottobre 2019. E ancora, nell'agosto del 2022, dice, spiace per chi a destra la pensa così, ma il punto è evidente. Il fine pena mai non è compatibile al fondo con il nostro Stato di diritto. Allora, la domanda è molto semplice. Ognuno può pensarla come vuole sul 41 bis. Ci sono quelli più garantisti, quelli che sono più giustizialisti, quelli che pensano che serva questa misura. Ma che cosa ci fa un ministro come Nordio, che dice queste cose, che è un ipergarantista, in un governo che invece considera l'articolo 41 bis, il carcere ostativo, la sua stella polare? Verrebbe da dire, liberate il prigioniero Nordio dalle grinfie di Del Mastro, di Donzelli o di Fratelli d'Italia. Insomma, c'è una contraddizione che in qualche maniera il nostro ministro della Giustizia dovrà dire come risolvere o lui o Del Mastro. Due concezioni completamente diverse, ma soprattutto una violazione di regole, di opportunità, di comportamenti istituzionali ormai acclarata. Che cosa farà il ministro?